Oh comandante, per me è un grande onore ospitare dei piloti Oh, l'uccello è bellissimo In fondo io e lei abbiamo delle cose in comune No, volevo dire che anch'io una volta volare Ragazzi Allora, dobbiamo star qua una vita Ma che te ha? Giacomo! Giacomino! Allora me l'immagino tutto spappolato con le mosche che gli girano intorno Oh! Ma che bello di parlare? Siamo nel diritto, nella perla delle dolmiti Mica il campo di carne Ma dai, tu lo sai che sono un padre civile e moderno E voglio affrontare la questione da solo Con comprensione e dolcizza Hai capito? Lasciami fare da solo No papà! No papà! Con comprensione e dolcizza No papà! Respira Questo è il tuo modo di essere un papà civile moderno? Sì! Magadea Continua, non ti preoccupare Magadea Logicamente Lorenzo è un pochino emozionato Allora Lorenzo, ripetiamo Come dovrebbe essere questa donna ideale? Pionda Bellissima Arta Abbiamo ospitato spesso con più omosessuali Megoglioni E mei coglioni sì Più omosessuali Noi siamo pro 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 Sessuali Megoglioni Ma quali omosessuali che a me non piacciono gli uomini? Questo qui è un futuro genero Dai Ditelo pure tu Vedo che il dottor Mandrione è molto più emancipato di lei Maglio un altro canale C'è soltanto la suite reale Pria notte? Diciamo Allora mi più Yex Yex Mi coglioni Yex 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 Ah sai che sono singolo io Giusto 100 100 Mi coglioni Sè E me coglioni Sè Giusto 100 100 Ciao Ciao Ciao